una volta che abbiamo raggiunto l'altezza del pannello che a noi serve andiamo a chiudere creando lo stesso bordo che abbiamo effettuato a inizio lavoro e lo andiamo a chiudere in questo modo andremo a lavorare delle maglie alte quindi una catenella carico il filo vado nella barretta verticale del punto successivo estraggo l'asolina ricarico e chiudo due carico di nuovo il filo vado nella asolina seguente sempre questa verticale estraggo ricarico e chiudo le due asoline queste sono le tre maglie alte del bordo iniziale poiché per la parte centrale il nostro punto fantasia è stato lavorato lasciando un punto di base dobbiamo andare a recuperare i punti che non abbiamo lavorato per avere il buchino e lo facciamo in questo modo sempre continuando con la maglia alta carichiamo il filo vedete che il punto è composto da una prima asolina più larga e una seconda asolina subito dopo il primo punto lo recuperiamo al centro delle due barrette verticali passando da sotto la prima barretta entriamo nella catenella che dava lo spazio prendiamo tutte e due gli anellini che la compongono estraiamo il filo carichiamo e chiudiamo due e continuiamo lavorando nella barretta verticale successiva normalmente carico il filo entro verticalmente nella barretta estraggo ricarico e chiudo due vi faccio rivedere come recuperare il punto il punto dovete recuperare sempre al centro delle due asoline verticali che formano il punto stesso carichiamo il filo passiamo da sotto la prima solina entriamo nella catenella che divide dalla asolina successiva prendiamo tutte e due gli occhiellini che la compongono estraiamo il filo carichiamo e chiudiamo due carico il filo vado nella barretta verticale successiva estraggo ricarico e chiudo due e continuiamo in questo modo per tutto il giro di chiusura vi faccio rivedere carico il filo vado sotto la prima barretta che ho a disposizione entro nella catenella esco dall'altro lato prendendo tutte e due gli occhielli che la compongono attimo che sono in una posizione scomoda ecco quel secondo estraggo il filo sempre passando da sotto la prima barretta verticale carico e chiudo due carico il filo vado nella barretta successiva la seconda estraggo e chiudo due ve lo faccio rivedere ancora una volta e poi continuerete lavorando tutto il giro per poi fare lo scarico carico il filo passo da sotto la prima verticale entro nella maglia prendendo le due asolini che lo compongono esco dall'altro lato prendo il filo lo estraggo ricarico e chiudo due carico il filo vado nella barretta verticale la seconda questa volta che compone il punto fantasia estraggo ricarico e chiudo due e questo è tutto il lavoro che dobbiamo fare per chiudere il nostro pannello vi faccio vedere poi il giro di ritorno arrivati in fondo alla riga andiamo a riprendere gli ultimi punti questo è ancora un punto fantasia quindi procediamo a recuperare il punto centrale come abbiamo fatto in precedenza passiamo da sotto la prima verticale estraiamo e scarichiamo due carichiamo e andiamo a recuperare adesso i punti dagli ultimi punti rimasti nelle barrette verticali un attimo che si è impicciato il filo nel punto di margine prendiamo sempre le due asoline del punto finale chiudiamo due e partiamo adesso con il giro di ritorno e lo scarico dei punti chiudo uno e chiudo due fino alla fine della rega terminato il giro di ritorno andremo a fare la chiusura del pannello terminato anche il giro di scarico andiamo adesso a chiudere definitivamente il pannello io sto usando un uncinetto normale sempre del numero 4 e chiudiamo in questo modo entriamo nelle barrette verticali e chiudiamo con delle maglie bassissime cerchiamo di non tendere troppo il filo altrimenti il pannello si deforma e andiamo a chiudere tutti i punti entriamo in ogni barretta verticale del giro sottostante estraiamo il filo e chiudiamo con un punto bassissimo naturalmente nel punto di margine entrerete in tutte e due le asoline come siamo soliti fare estraiamo il filo e chiudiamo facciamo un punto catenella e ad un pannello andrete a tagliare il filo mentre l'altro pannello quando lo avrete terminato potete anche lasciare il filo perché vi servirà per andare a chiudere la parte superiore potete chiudere la parte entrando con l'ago in ogni catenella e prendendo le due parti dei due pannelli oppure con un punto bassissimo come facciamo per le chiusure dei lavori a crochet sempre entrando in ogni singola maglia sia dell'uno che dell'altro pannello e procedere alla chiusura una volta terminati i pannelli per evitare che durante la cucitura i lembi non combacino il mio consiglio è quello di imbastire tutti i lati da cucire sulle spalle vedete che ho già chiuso con un punto bassissimo prendendo le due maglie superiore di tutte e due i lembi vi faccio vedere più o meno il procedimento per cucire i miei pannelli sto usando il numero di uncinetto giusto che avrei usato per la lavorazione di questo filato in questo caso il numero 2 partendo da uno qualsiasi dei punti da cucire questo è uno dei fianchi prendiamo il filo andiamo a fare il nostro cappietto iniziale che ci servirà per fissarci al lavoro prendo i due lembi me li vado a sistemare entro vedete nelle due asoline della parte superiore del primo pannello e vado a prendere anche le due asoline della maglia dell'altro pannello avvicino il cappietto che ho creato prima con il filo che mi servirà per cucire lo estraggo da tutte le asoline e do un punto catenella un altro punto catenella per non far tirare la mia cucitura e mi vado a ragganciare al punto successivo sempre prendendo tutte e due le asoline del primo punto superiore e poi quello del pannello posteriore vedete estraggo il filo e chiudo una catenella e ricomincio mi vado a prendere le due asoline del punto successivo quello del pannello fronte a me entro nelle due asoline del pannello di dietro e continuo nella mia cucitura ho preferito prendere tutte e due le asoline per dare più stabilità alla cucitura ci sono in rete molti altri modi per poter cucire i lavori all'uncinetto il mio preferito è questo perché mi da una cucitura più stabile cercate sempre di tenere una tensione costante del filo non tiratelo eccessivamente ma non tenetelo neanche troppo morbido non tirate i punti dei pannelli ma assecondate la naturale andatura del lavoro vedete io lo tengo soltanto stretto fra le dita per avere ben visibile dove andare a entrare con l'uncinetto vedete che la cucitura non tira affatto grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti